Rotolo di patate Ingredienti 600 g di patate, 1 cucchiaio di farina, 6 cucchiai di parmigiano, 1 uovo, sale Per il ripieno 100 g di prosciutto cotto, 100 g di scamorza affumicata Bollite le patate e poi schiacciatele con uno schiacciapatate Impastate tutto con ingredienti Cospargete un po' di olio d'oliva In un foglio di carta forno Mettete il composto di patate nella carta forno e date una forma rettangolare Parcite col prosciutto cotto e il formaggio Musica 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 aiutandovi con la carta forno fate un rotolo arrotolate bene le patate e chiudetelo bene agli fate cuocere a 200 gradi per 25 minuti fate cuocere altri 15 minuti senza carta forno che ne dite si presenta bene è un ottimo piatto unico una delizia per il palato una vera vera bontà a